Prima gara casalinga in Serie D per il Tau Calcio, che in realtà però è costretto a svernare al Carraia di Ghivizzano. Il comunale di Alto Pascio è infatti oggetto di accurati lavori di maquillage. In Casa Granata si spera che l'impianto sia pronto ad ottobre. Il Tau ha i primi punti in una sfida altrettanto inedita contro gli Umbri dello Sport in Trestina. La sconfitta 1-3 di Follonica brucia ancora e quindi la grinta deve essere quella giusta. Abbrivio con una prima fase di studio. Tau piuttosto timido, che si fa vivo solo con qualche spunto di Anzilotti. E' Antoni, che al ventesimo guadagna una buona punizione. L'esecuzione però non è granché. Tre minuti più tardi l'arbitro Danillo di Vasto comanda la massima punizione per atterramento di Carcani. Dagli 11 metri si presenta Brega, che però si fa ipnotizzare da Tosai. Ed anche sulla respinta del portiere del Trestina non sa fare meglio che calciargli di nuovo il pallone addosso. Si rimane sullo 0-0. Ora i Granata spingono e lo fanno anche bene. Alla mezz'ora, pericoloso cross di Borgia dalla destra, che il portiere smanaccia in calcio d'angolo. Al 32 girata al volo di Tommaso Carcani, ma la mira è imprecisa e il pallone finisce alto. Si va a riposo sullo 0-0, con evidenti rimpianti per il Tau e quel rigore fallito. Nella ripresa, finalmente la partita si sblocca al quarto d'ora. Punizione calibrata dell'ottimo Anzilotti, con zampata vincente di Meucci, che tocca in mischia in modo risolutivo. Esplode così la gioia del bravo centrocampista di Carrara. Ma dura poco, perché al ventunesimo il Trestina perviene al pareggio con Belli, che vince un duello da cavalleria rusticana con Borgia e trova lo spiraglio per segnare da posizione defilata. Il Tau non ci sta e nel finale si rovesce in avanti, grazie anche agli innesti di Pratesi e Cesarini. Al 34esimo ancora Anzilotti va alla conclusione, ma Tosai si esalta e devia in angolo. Nello scorcio finale non succede altro, finisce 1-1 con un equo e giusto risultato di parità tra due squadre che pedevano però crescere ancora molto. La riprova per il Tau domenica prossima nella difficile trasferta di Orvieto.